È un articolo che nel tempo assolutamente acquista valore, quindi è come avere un assegno circolare in mano. Lo compro fra dieci anni, voglio realizzare o ho bisogno di realizzare, lo vendo veramente in... È un investimento sicuro. Sicuramente, sì, sì, sì. Investire nell'acquisto dei Rolex conviene, ma non solo per il mercato legale. Anche i criminali sanno che possedere un orologio di lusso può affruttare profitti consistenti. Il riferimento alla banda dei Rolex che ha imperversato a Trieste nell'ultimo anno è scontato. I possessori del prezioso orologio devono guardarsi bene dall'esibirlo con ostentazione. Rolex diciamo che negli anni ha fatto un'operazione di marketing veramente notevole, per cui adesso la richiesta è tantissima. La disponibilità non è tanta, perché i concessionari hanno un tot numero di orologi a disposizione, per cui chi lo vuole velocemente acquista un usato al prezzo del nuovo e forse anche qualcosina in più. E poi c'è appunto, come dicevi, il mercato del sommerso, che quello esiste, insomma, in qualsiasi bene di valore c'è. Il rischio di subire furti per le gioiellerie invece è pressoché nullo. Tanto sono avanzati i sistemi di protezione. Siamo alla vetrina, secondo me, su un negozio è attrezzato con sistemi di sicurezza validi. Ha un rischio, diciamo, relativo, come abbiamo visto negli ultimi periodi, c'è un rischio forse per il possessore. In strada viene fermato, abbiamo visto il successo derubato, picchiato. Fortunatamente Trieste, sono casi isolati questi qua, speriamo che non diventino più frequenti. Fortunatamente Trieste, sono casi isolati questi qua.